Dalla Costa, ex di turno, cresciuta nelle Giovanni del Cassano, poi ormai da 5-6 stagioni a Salerno e prima la sua prima rete Cassano che attacca con Cobianchi, Barboso, tende il passaggio al pivot ma la palla si perde Passaggio fallito, contropiede del Salerno Palla fuori, persa la palla al Salerno Possesso palla a Cassano Vediamo, riconosciamo, Barboso centrale Grazzi sinistra, mi sembra che ci sia Cobianchi destra Pivot Montoli Cassano con la solita maglietta a Maranto con inserti bianchi 50 secondi dal primo tempo, 1-0 per il Salerno Prova su Pia Garazzi In penetrazione in mezzo alla difesa non attentissima del Salerno Prima rete anche per il Cassano con Sofia Ferrazzi Subito parata Ma secondo mi va chi? Mi va chi? Sì! Gozzi con il piede Realizza 1-2 del Cassano Prima riesce a prendere il pallone Si allontana dal difensore che rientrava Poi mette il pallone Primo palo 2-1 per il Cassano, 1-23 Passaggio lungo Eh sì, terzino a destra del Salerno Infila il portiere Cassano sul primo palo 2 pari Avvio vibrante Molte azioni, anche un paio di palle perse Una per parte, però ritmi molto alti Fin da primo istante Per Onelli sapevamo che ci sarebbe stata questa scelta di provare a giocare in velocità E abbiamo visto che anche per il Salerno Quindi partita che si prospetta, vibrante e veloce Eccola qua, una seconda fase di partenza Palla per Mainolovic Sulla destra Palla, poco spazio Palo Recupera la giocatrice del Cassano Due pari Rosso Mando ha dato il tiro Ma credo si sia opposta anche No, palo Palla, sì Va Barbosa Palla Barbosa Uno contro uno Ma in passione di passi Nulla di fatto Può ripartire Pinto Pereira Il nuovo portiere Ne ho acquisto portoghese Dalla Iomi Salerno Poi Manolovic Tanto spazio ma c'è lì Intuisce Bertolino Bertolino con la manona sulla sinistra E' andata praticamente sul suo incrocio dei pali a sinistra E lì è arrivato il tiro Molto bravo a leggere Il tiro della giocatrice del Salerno Due pari, 2.43 Per ora non vediamo in campo L'altro neo acquisto La giocatrice Vladimira Baiciova Ho visto nel riscaldamento Luca Ho notato un certo Manolovic centrale e stellato Mi ha sembrato di vedere a terzino destra Oh qua è spazio Che brava La Ferrazzi Non è che fosse velocissimo quel cambio di direzione Ma ho tenuto il risultato Inferiorità numerica il Cassano Eccola qua La Baiciova al tiro Rigore Quindi c'è un cambio attacco e difeso Proprio tra Vladimira Baiciova E la Squizzato Che invece si occupa della fase difensiva E' andata a cambio di direzione a destra Si è portata chiudendosi l'angolo Ma la giocatrice Cassano Contrastato troppo rigore Sarà Ilaria dalla costa Finta Poi Paniona E realizza Tre pari Secondo gol di dalla costa Luca Si Perfetto Tre pari Quarantasei Abbiamo visto due errori del Cassano sul tentativo di passaggio al pivot Palla persa Direi già due palle perse per il Cassano Fase un po' insistita questa di cercare il pivot Ok Barboso Scarica su Però fa buona guardia la difesa Ancora Ferrazzi Palla persa in attacco Passi a Barboso Attenzione alla seconda fase Ma non lo ci per Rosso Mando Para Nila Ancora Due paratone Gliela diamo Due parate di seguito Bertolino Nila Prima su Rosso Mando E poi sul tentativo di Tapin da parte di Lucila Stettler Pivot della formazione Campana Ma due volte si oppone Nila Bertolino Però devo dire che la difesa del Cassano Un po' dormito Sì diciamo Sull'ala ci poteva stare Che Era la seconda fase Era molto veloce Rosso Mando Sulla respinta Si poteva far di meglio Anche perché Tutti i giocatrici del Cassano Per fortuna Ci ha messo una pezza La nostra Nila Ora Gozzi Posizione centrale Barboso Uno contro uno Va a conquistarsi Un nove metri Poi ricordiamo anche La coppia arbitrale C'è stato un Un cambio Perché L'abito Cassagnino Non è riuscito A Quanto meno Il volo che doveva prendere Stamattina per arrivare Cassano È stato rimandato Ha perso Fallo Brava D'emergenza Richiamata Merisi Che arbitra questa partita Insieme a Manuele Perfetto Abbiamo visto ancora Ferrazzi Cambio di direzione Sta mettendo molto in difficoltà Ricordiamo due Passi fischiati Fischiati Da giocatrice Cassano Passivo Passivo Scarica Tutto più difficile Riparte Siamo finiti i passaggi Quindi ci sarà Ah no Però attenzione Attenzione Cartinino giallo E quindi viene Azzerata La tratta di passivo Il Cassano potrà giocare Con un po' più di Tranquillità Non troppo Perché se no Troveremo nella stessa Identica situazione Certo Barbosio ha parlato Con Montoli Pivo Deve spostarsi Tra le due centrali Ora è tra Seconda e terza Per la destra Addirittura penultima Ecco che va Cambio Siamo molto Ah uno schema Però non c'è più possibilità La difesa È messa bene Scarica Ancora Ferrazzi a trovare Il barco Poi Montoli 9 metri Diciamo che Molto chiusa La difesa Del Salerno Schierato in 6-0 Non lascia spazi Finora Ferrazzi ha avuto Buon gioco Con tre cambi Direzioniamo Però sembra che Adesso è più difficile Barbosio Ecco Sì Stoppatona Ma c'è la Ferrazzi Tenta il tiro Improvviso Schiacciato Un po' in difficoltà Pinto Pereira Ma riesce A bloccare il pallone Riparte Seconda fase Attenzione Ilaria dalla costa Sfondamento 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 Andiamo ragazzi Su Su Non sono tornati In difesa I giocatrici Dai Bisogna così Uno contro uno Non ha più Eh viene chiamato Sfondamento Ancacobianchi Anche se Anche se Una mano in faccia L'ha presa Era meno evidente Di quello di Dalla costa Però Questo è stato Che poi nel Nel contatto Si è anche fatta male Michela Sì ha preso qualcosa In faccia Sette dodici Tre pari Non è inquadrata Michela La parte destra Del campo Perché osserva E Ha preso una botta In faccia Ecco sta rientrando Adesso Vai Michi Tre pari Buon comportamento Il Cassano In quel momento Ricordiamo Fino a questo momento Ricordiamo Che Con Ovviamente La compensazione Del Cassano In attacco Delle giocatrici È stata fatta Dal portiere Del Cassano Con tre belle parate Per questo Il punteggio Il punteggio Il punteggio è tre pari Entra Scarica Vediamo Si Risale E lo spazio C'è La Montoli Purtroppo Si è rimasta Mezza strada E ha lasciato Un'autostrada All'attaccante Del Salerno Barboso Deve scaricare Tirino Di Michela È vero che Stava traslando A destra Non aveva più Coordinazione Però E voleva Anticipare Il portiere Che era Sul suo primo palo Però il tiro Era stato Lento E impreciso 4-3 Per il Salerno 8 minuti Attacco Un po' Steli Del Cassano L'ultimo Di possesso Palla Sembrava Ben avviato Poi Credo Gli ultimi Tre attacchi Senza Forse addirittura Quattro Senza arrivare Al gol Senza Che ci siano state Parate Evidenti Di Pinto Perera Quindi Proprio Difficoltà Nell'arrivare Al tiro Invece Il Salerno Sembrava Un po' Più In Palla Brava 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 Ancora sfondamento Sono molto sensibili A fiscare sfondamente La coppia arbitrale Oggi Quindi Usa lo stesso Parametro Il metro di giudizio Della coppia arbitrale Oggi Quindi bisogna Adeguarsi I giocatori Devono adeguarsi Se non sono Con uno spazio Aperto Tra Tra i difensori Si rischia Effettivamente Sponsamento Ferrazzi Ricordiamo Come detto prima C'è stata anche Una sostituzione In corsa Di uno dei due arbitri Quindi Coppia Non abituata A vitrare insieme Potrebbero anche Avere problemi Di affiatamento E quindi Bisognerà Capire La L'uniformità Di giudizio Poi qua invece Seconda fase Ben orchestrata Da Salerno Non così Perfetta L'intesa Della difesa Che seppur Le ragazze Stavano tornando Ma Riga Riga Scoperta Già 5-3 Per il Salerno Quando adesso Cassano le paga tutte Scarico Alla libera Però ci mette Ci sta tenendo a gallanila Però Il ripiegamento Difensivo Perché stiamo tornando Quindi stiamo correndo Ma lasciamo Messe male Esatto Lasciamo delle zone scoperte Dove giocatrici Guarda il pivot C'erano Quattro giocatrici Cassano che tornavano Il pieno e mezzo Esattamente Tra le due centrali Lì ha ricevuto la palla Avevano tostato davanti 5-3 E poi il Cassano Davanti Non realizza Esatto Adesso Scampato il pericolo Sono solo due rete A recuperare Bisogna tornare a segnare Perché l'ultima rete Risale ormai A qualche minuto fa Yes Tutto da Ferrazzi Scarica Finta di Barboso Molto bene Questa volta C'è la giocatrice del Cassano Interviene Pinto Pereira Brava Già brava giocatrice del Cassano A buttarsi sulla palla Recuperando la spazzatura 5-3 Molto brava La sinistra del Cassano Ultimamente il Cassano Al terzo minuto Siamo al decimo Quindi lo seguiamo Da sette minuti Ecco Lo scarico per Montoli L'ampiata fuori Sull'uscita del portiere Cerca di angolare Ma la palla si perde Oltre il palo Quando riusciamo La seconda fase Quando riusciamo a liberare il pivot È troppo poca gente di qua È sì Il primo angolo 6-3 ci sta tutto Stiamo subendo Errori in attacco E seconde fase del Saren Assolutamente La differenza è tutta qua Difesa sparpagliata Il Cassano finalmente libera il pivot Peccato che Montoli Non ha preso la porta E quindi direi Finora 4-5 grandi errori del Cassano Ripeto Due doppi Errori del pivot Passi Ne abbiamo viste Ecco Barbosio Che scarica Non ce la fa rigore Perché È stata interferenza Interferenza Nel momento del salto Diciamo Fino adesso A Prevasso La difesa del Salerno Che sta Chiudendo molto Spazio Nella serie attacchi Poi sulle palle recuperate Stanno giocando Anche un'ottima seconda fase Assolutamente Le ragazze di Laura Avram Ora C'è una differenza tra la Milan e il portiere Un bel gap Infatti glielo prende Un paio di finte Un paio di spostamenti anche di Pinto Pereira Poi alla fine Va sul lato giusto Sulla sua destra Lì dove ha mandato la palla Giulia Milan E anche questa occasione sfuma Ho visto questa piccolina Di fronte Al doppia altezza del portiere Mi è venuto un po' di soggezione Allora siamo sul punteggio di 6 a 3 Sì è vero Perché abbiamo sbagliato il rigore Dodicesimo Abbiamo Salerno in attacco Pivot si trova tra Seconda e terza Adesso abbiamo Doppio pivot Come l'arga Andata a fare Scarico su centrale Panion All'incrocio dei pali 7 a 3 E' tutto semplice Il Cassano per ora Spettatore Soprattutto da 5 minuti a questa parte Povonelli a buttare nella mischia Eva Broggi Fallo su Barboso Adesso vediamo Eva Per ora terzino Adesso poi vediamo Si cambia con Pucco Bianchi Sì Quindi per ora centrale Di partenza Con Barboso a sinistra Vediamo Ha fatto riposare Ferrazzi Quindi esatto Suggizione per Ferrazzi Ecco Miesce Montoli Schema di partenza Il pivot Il Vala Barboso Cambio di direzione Non riesce a scavalcare Libera l'ala Molto bene Di spazio ce n'è Di spazio ce n'è Finalmente Gol di Cassano 7 a 4 Molto bene Difesa del Cassano In questa occasione Non ha lasciato La giocatrice Della Salerno Scaricare Era tutto più difficile 7 salerno In attacco Cassano 4 In difesa 13-14 Il primo tempo Finora Tutto è determinato Dagli errori Del Cassano In attacco E della difesa Ecco Doppio pivot Attenzione Ah là Ci mette la manona La Barboso E va a intercettare Il passaggio in diagonale Molto presente A Barboso 7 a 4 A una mano sola Si è arrampicata È momento per il Cassano E fare qualche gol Visto che in difesa È riuscito a difendere Esatto Sì Difesa schierata Qualcosina Riusciamo a contenere Quindi bisogna approfittare Di questa palla recuperata Per cercare di diminuire il gap Eccola Fuori Broggi Poi viene spinta Eh sì Ci sarà un tiro Dei 7 metri Abbiamo notato però Che sulla finta Sia con la Ferrazzi Che con la Broggi Due difensi Due giocatrici Del Salerno Sono saltate a vuoto Quindi era più facile Poi Avere lo spazio Vediamo se segniamo Il rigore Vediamo se segniamo Questo rigore Ancora Adesso abbiamo Ponti Vediamo E palo Gol Molto bene Sullo spigolo Interno del palo Non era assolutamente Facile 7 a 5 Bene Dalla costa centrale Chiama schema Con pugno Della mano sinistra Per adesso Per adesso Un solo pivot Da parte Della Salerno Ecco che esce Che va A cambiare posizione Pivot Centrale In crocia Scarica Sulla destra È molto bene Contenuta Dal Cassano Che prende rigore Perché Ovviamente Il fallo È iniziato Prima Però la giocatrice Del Salerno È riuscita in caduta A continuare E questo punto È rigore 7 a 5 Per il Salerno Vediamo Dalla costa E vediamo Se la prende anche Ah peccato Devo dare anche Una parata su rigore Luca Eh sì Però Sì però Quello non è anche Colpa della difesa Perché la respinta È proprio sul giocatore Che attacca Quindi Non possiamo neanche dire Che la difesa Non era attenta 8 Salerno 5 Cassano 15 Metà del primo tempo Sì Cassano sembra Aveva superato Un momento peggiore Però Sono sempre tra le reti Da recuperare Salerno Non ha fondato il colpo Non ha chiuso il match Ed ora Eh sì Tutto più difficile Con la difesa Del Salerno Così schierata Michela dice qualcosa Alle compagnie Adesso Montoli Si sposta di là Doppio pivot Passaggio Intercettato Da una giocatrice Del Salerno Ancora tiro Ancora intercetto Cassano Ha grosse difficoltà Soprattutto Si tira Senza avere Creato uno spazio Eh Deviazione 8 25 Di 28 Di 28 6 Sulla Deviazione Palla che spiazza il portiere del Salerno 8 6 Pivot libero Eh Cambio di mano e passi Fischia anche qualche passo Al giocatrice del Salerno Avete visto Finta A destra A destra Poi Rotazione a sinistra Spostamento della palla Sulla mano sinistra Ma i passi erano troppi Ricordiamo che Si possono fare Massimo tre passi 6 8 6 Cassano Ha la possibilità Di andare all'8 7 Cassano piano piano Pensa a te Luca Sta ritornando a galla Montoli esce Schema per Fare la partenza Ancora Adesso attacca Un po' di spazio Tira La Michela Ma La manona destra Del portiere del Salerno E' aperta Sulla sua Orizzontale Intercetta perfettamente Il tiro 8 6 Anticipato Michela Per Avendo visto lo spostamento Del Del portiere del Salerno Ma Il portiere C'era con la mano giusta Dalla costa Chiama schema 1 Per il Salerno Si sposta a sinistra Il pivot esce Incrocia Ecco vediamo Adesso il momento Va E 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 Peccato Non si Non si può più far niente Se Ancora in area della costa Si Se libera Se sei di fianco E noi davanti Non la tieni più 9 a 6 Scaricone Sondamento Sì sì Questo era Netto Buon movimento Di Ma Ancora in area della costa Ostruire 9 a 6 Anche per l'urlo C'era lo sfondamento Riparte il Salerno Su 9 a 6 18 minuti Il primo tempo 12 alla fine Del primo tempo Vediamo per adesso Un pivot solo Eccolo Doppio pivot Lo schema di partenza Per creare gli spazi Ala C'è spazio Ma Ah C'era Ma E Golla Nel Salerno E Non saprei dire Chi ha segnato Lala Credo Piene Napolitano Adesso Riparte 10 a 6 E adesso Non ho capito Che gli abiti Sono sensibili Al passivo Sia da una parte O dall'altra I difensori Cercano di accentuare Chiaro Con l'urlo Sentite Uh Devo dire Che chi Gioca per lo sfondamento Deve avere via le mani Avanti allo sterno Cosa succede Che se il giocatore Con la spalla Ti arriva addosso La prima cosa che fai Ti viene da urlare Adesso Provo a fermare il tutto Salvatore Onelli Primo time out Della partita Sul punteggio Di 10 a 6 Per il Salerno Che diciamo Sembra di aver superato Il punto più critico Però sono ancora Quattro Da recuperare Quindi Prova Soluzioni nuove Coach Amaranto Si Ha fatto già Due cambiamenti Che però Hanno determinato Qualche sfondo in più E quindi Vediamo se poi Rientrerà Ferrazzi Però adesso La sua sostituta Si sta comportando bene Perché sta Tenendo sotto pressione Poi Passare La difesa Salerno Non è facile No no Assolutamente no Se poi Non hai velocità Vedete Quando fanno Gli spostamenti Con il Salerno Dopo che Hanno fatto 10 passaggi Sono dentro Due pivote Sono sulle diagonali Con le massime velocità A quel punto Lì la difesa Se non Prende Di posizione Chi entra Sistematicamente Superato Difesa Salerno 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 Molto alta Quindi Altezza media Decisamente Superiore La nostra Non abbiamo Storicamente Grosse tiratrici Da fuori Abbiamo cercato Vanamente Nei primi minuti Di gioco Il pivot Ma Chiaramente Non uscendo La concentrazione Suo pivot È maggiore Quindi Dobbiamo trovare Soluzioni Di velocità Con velocità Di gambe Non è semplice Certo Che sono sempre Ponte raddoppio Le giocatrici Campane Ora prova Con l'Aita Dentro Nella mischia È rientrata Anche Ferrazzi Sì È rientrata Ferrazzi Scarica E dentro Anche Si prova Con due giocatrici Più Brava Ferrazzi Bravissima È sempre Lei che Su campo In direzione Ricordiamo Mettendo In difficoltà La difesa Del Salerno Stiamo provando A giocare Con l'Aita E Ponte Che sono giocatrici Più Diciamo Meno alte Diciamo così Breve linee Quindi giocare Sono in città Di gambe Si è creato Il varco Infilare Ferrazzi Però poi Però crediamo Inferiorità numerica Difesa C'è L'ultima L'Ala viene aspirata Dall'ultima Ovviamente L'Ala Del Salerno A questo punto Ha 5 metri Di spazio Per cui poter entrare Tutto facile Ottima La scalata Del Salerno Da manuale Un giro e mezzo Di palla E Pina Napoletano Capitano Della PGO Salerno Solo e indisturbata Dall'Ala Anzi Perché è tirato Quasi da terzino Quindi nulla ha potuto In questo caso Nì la Bertonella La prima giocatrice Cassano Era 6 metri Per cui Di distanza Non sulla linea Adesso vediamo Grazie che scarica Anche lì L'Aleta Ponti Prova da fuori Ma Palla sul primo palo Dove è posizionata Pinto Pereira Adora Bel lancio Fuori Era bello il lancio Di Mainolovic In situazione Precaria Di equilibrio Ma Vai che manca Un po' Qualche giocatrice Pivot Muoviti Sì E grande parata Di Pinto Pereira Ricordatevi i ragazzi Che ha dovuto Prenderla a pallina avanti Si è buttata di schiena Praticamente Senza poter usare i piedi Era attaccata a terra Capisco che Ha provato a piazzarla Ma Non aveva più Possibilità di muovere il braccio Se non Buttarla in una direzione Aveva una scelta obbligata E su quel punto Si è buttato in anticipo Pinto Pereira Neutralizzando Peccato Quindi aveva un decimo di secondo Per lasciare la palla Da fuori Palo Peccato che non prendiamo La ribattuta Riparte il Salerno Scarica Eccolo lì Baicciova Palleccio Scarica Buono Tutto buono Difese in area Si è trovato in area Sulla penetrazione di Baicciova Si è trovato in area Zanellini Poi la palla che era volata Napolitano E quando si è trovata contro La salita Napolitano Aveva i piedi in area Aveva i piedi in area E questo è rigore 11 a 7 Fizzico di sfortuna Però Facciamo il tifo per Nila Vediamo se ci sarà una finta Tettler sui 7 metri Eh Senza bisogno di finta Poi non ha tirato neanche forte Ha piazzato Piazzato il tiro In maniera precisissima Piazzato Sembrava Ovviamente un portiere Quando un giocatore fa Un caricamento di quel tipo lì Non sa mai quando lascia la palla L'ha lasciato all'ultimo momento E a quel punto il portiere Non aveva più possibilità Di buttarsi una parte dall'altra 12 a 7 Per il Salerno A Ferrazzi Wow sfortuna Non è entrata C'aveva i piedi in area Sì Ah no Allora Fallo della giocatrice del Cassano Palla che carambola Sul palo Poi Sembrava Parte interna Ma probabilmente era solo Sfiorata la traversa Però No Allo spigolo del palo alto A destra Ritornata sulla giocatrice del Salerno Ma secondo me Aveva i piedi in area Però l'arbitro Ha visto un fallo Sulla giocatrice E quindi ha fischiato Fallo contro il Cassano 12 a 7 Vedete come cambiano le diagonali Vedete come accelerano L'ala è libera Già E poi Eh sì Non se l'ha sentita Di tirare dall'angolo morto No perché aveva poco spazio Scaricato su Sul pivot Su Stettler E però La palla è in fondo a sacco Sì Cassano che Ha tutte le soluzioni Il Salerno Sotto di 13 Finale di primo tempo Nettamente ancora A favore Il Salerno Cassano non segna più Da qualche minuto Avevano segnato un gol Dopo che era tre minuti Che non segnava Quindi non è assolutamente Delle lunghe fasi Di blackout Offensivo soprattutto E paghiamo con Le ripartenze Seconda fase Ma ora stiamo cominciando A soffrire anche Il gioco Con la difesa schierata Wow E si inventa questo tiro In doppio appoggio Lisa Ponti Attenso Momenti La prende Devi tenerla Devi tenerla Siamo in inferiorità Stettler Napoletano Poi decide di fermarsi E' tornata un po' E' tornata un po' Di gente Che era in giro a spasso 13 a 8 23 Primo tempo Si sta scaldando Qualche giocatrici Del Cassano In panchina Il centrale Del Salerno Chiama schema Adalla Costa Risale Terzino destro Dalla Costa Diagonale Panion E sarà gol Tira indisturbata Difesa Completamente Piatta Davanti Non è facile La regola Dice prendi il pivolo E ti portalo Verso il centrocampo Magari si scontra Col Terzino Non è sempre facile 14 a 8 Però alla fine Era in due sul pivot Nessuno è uscito Su l'area L'area è arrivata Sui 7 metri Lo scopo è quello Un'altra regola base Dice Poi mette quello che la palla in mano È l'avversario più pericoloso Normalmente Primo Poi se lo scarica sul pivot E ti è dalla parte Sfavorevole Quello ci sta La Barboso Rientrata in campo Numero 55 Scopo una palla Scarica c'è un po' Un po' d'aria Un po' d'aria Trova un secondo palo Fantastico Difficilissimo Sì avete visto Ma efficace Ha lasciato la palla Ha lasciato la palla Ci ha pensato su Dalla costa Cambia Viene contrastata Due minuti A L'Aita L'Aita Perché ha Ha interferito Sola dalla costa Tanto che Ha spinto Il momento del tiro Quindi quando il giocatore Renevazione Non ha modi Di dipendere Certo Pallo rischioso Per la sicurezza Del giocatore Sempre puniti Con due minuti Svai minuti Si ripende il gioco Ora 14-19 Ferietà numerica Tanto vediamo All'ala sinistra Con il numero Ecco adesso Pivot Vanno dentro Due assieme Avete visto Lo schermo Ho detto Non c'è nessuno Che fa pivot Sono entrati In due Contemporanei Te dai Nove metri Quindi Numero 22 All'ala sinistra Abbiamo Chianese Qualche istante di riposo Per il capitano Pina Napoletano 19 Cioè 15 Salerno in difesa Nove Cassano Rientrata Dentro anche Cobianchi Sta provando A fare Turnover A Onelli La Michela Per dare velocità E continuità A gioco Delle proprie ragazze Adesso pivot Si è spostato Non c'è più La Montola E pivot No Rientrata anche Eva Broggia pivot Ah peccato Abbiamo perso La possibilità Di scaricare All'ala Sì passivo Attenzione Siamo sotto passivo Si lotta Con Broggi In mezzo a difesa Avversaria Sì Due passaggi ancora Forse No forse tre Ci vuole uno Che vada a tirare Infatti È quello che volevo Panion La palla era ben indirizzata Al sette Ma si allunga Pinto Pereira C'è qualche difficoltà A portiere nel tirare fuori La palla dalla rete È la terza volta Bello il tiro Ben direzionato È messa a sacca E poi molto profonda Non si riesce Sì non aveva molto Neanche tanto spunto Ponte riprendere il gioco Quattro all'intervallo Cassano sotto di sei Dove cercare di Stringere i denti Limitare i danni Cercare di andare In questo gap E poi cercare Di inventarsi qualcosa Però Salerno Finora ci è sembrata Molto presente Squadra completa Bene a difesa Bene all'attacco Bene alla seconda fase Portiere para C'è poco da inventarsi Credo Le ali segnano In gol anche Chianese Abbiamo detto Subentrata Qualche istante fa Napolitano Gloria anche per lei E fa sedici Sedici Salerno Nove Cassano Parità numerica Si gioca Sei contro sei Giocatrici di movimento Passaggio Brava Ma parla anche questa Con un semplice movimento Della gambetta Luca Sembra tutto facile Quei portiere lì Sembra addirittura Che non Copre molto bene La sua difesa Ora prendiamo una palla Ma recuperiamo Portiere Recuperata Nila Chiaramente passivo Tre passaggi Doviene attirare Tiro viene addirittura Stoppato Può ripartire Salerno Scarica che c'è Rimorchio Scarica a destra Non c'è nessuno Per fortuna Sembra tutto facile Avete visto Giocatrice Passa a rimorchio Passa dietro La giocatrice libera l'ala Lala c'ha 6 metri Non ha preso la porta Però tutto quello Prima del tiro Era perfetto Entrata con numero 3 Stellato Carmela Autrice del tiro Sbagliato Qualche istante fa Yes Arrivato Rosso Mando In quella posizione Ok Scampato pericolo Però siamo sempre sotto Di 7 reti Eh sì Avendone segnate Solo 9 Per giunto Assolutamente 16 Salerno Un po' di minaccia Scarico l'ala un po' libera Finora l'ala è quella Che ci ha Eh sì Riusciamo a Cercando tiri Difficilissimi Su secondo palo Però per ora Buone percentuali Non so se 4 Eh anche dalla costa Per via centrali Poca opposizione Sì Tocca Bertolino Ma non riesce a Fermare la palla Scarica male Ogni gol ci costa Una fatica Enorme Poi invece Per il Salerno In pochi istanti A trovare la via del gol Assolutamente Diventa tutto Sempre più complicato Un minuto e mezzo All'intervallo Forse Si aspetta solo quello Per rimettere in ordine Le idee Sì 17 e 10 Ponti Ancora Da più appoggio Ma ha capito tutto Ma recupera Recupera Zanellini Ormai non c'è altro Speranza che provare Tiro anche da fermi Vediamo l'ala Non va mica sempre bene Non è sempre festa Barboso Laita Ancora Piede 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 la palla Palla lunga per Chianese Dai Diamo ragazzi Diamo ragazze Dai Dai Quattro Manca qualcuno ancora Ma dai Tutta libera a destra Fasi confuse L'ala del Salerno Non era ancora rientrata Due giocatrici In maglia maranto A destra E' chiaro che è facile Vederlo a distanza In campo Punti Guardi la portiere Non hai la visione periferica Non lo vedi 30 secondi all'intervallo Ultima occasione per Cassano Di costruire Un'azione offensiva Laita Finta Ma viene disturbata la difesa Poi palla che arriva Senza troppa forza Dalle parti di Pinto Pereira Che è la domestica E da l'ultimo Possesso palla Salerno Passi 10 secondi Vediamo se c'è tempo Di ributtare Dai 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 E ciao Correggio la posizione Ciao Arrivederci Finita Arrivederci Ciao Buongiorno Buongiorno 17 a 10 Primo tempo Con il Salerno Direi stra ripante Eh sì Diciamo Salerno Non dico perfetto Però insomma Fatto il suo compito Difesa non difeso In attacco non segnato Le seconde fasi le han fatto Quei due tre tiri un po' complicati Li ha parati il portiere Quindi Più di così Non è che si possa chiedere tanto Abbiamo quattro belle paratone Il portiere Cassano Se no eravamo A parlare di un altro punteggio Esatto Adesso Il distacco è netto Sette reti a recuperare Soprattutto abbiamo segnato Poco 10 reti in un tempo E bisognerà Segnarne Almeno doppio Una ripresa Per pensare anche A solo rimontare Quindi cosa Complicatissima Vediamo Cosa si fanno Le ragazze Vediamo quali saranno Ovviamente Le contromosse Di Ava Ma nel frattempo Noi ci prendiamo Qualche minuto di pausa A fa poco Ciao Grazie a tutti 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 Questa volta c'è Il Salerno in difesa Vediamo la partenza Del gioco del Cassano Pivot che esce Schema di partenza Scarico sul terzino Light abrogico bianchi Il trice del terzino Il trice del terzino Vedete come c'è Vedete come si è un mito di partenza c'è spazio, c'è un giocatore meno in difesa, è bravo! Attenzione, attenzione attenzione Laita poi non si avvede parlano due abbi forse fallo grave Luca vediamo, allora il fallo è sicuramente tutto fortuito perché è stellato credo fosse, no scusa con nove era squizzato due minuti, non si è accorta che c'era Laita, lei stava andando su stava guardando la palla, era andata per prendere il passaggio alla compagna ma Laita gli è passata davanti la tipica azione d'anticipo infatti vediamo un po' più squizzato Luca devo dire che prima volta che fanno 5-1 hanno preso la palla, hanno intercettato magari non succede più basta, non succede più adesso diciamo che è un caso al primo tempo abbiamo sofferto molto i tiri soprattutto i terzini che arrivano sui 7 metri completamente indisturbati e quindi prova qualcosa di diverso diceva Einstein non puoi aspettarti risultati diversi, adesso continui a fare è sempre la stessa cosa quindi può fare qualcosa di diverso tanto se è sotto di 7 è peggio di così non è che puoi fare faccio in americano ci dice try and air cioè prova e sbaglia è un po' in area la difensiera dell'ala del Salerno è in area però l'arbitro è più vicino e ha ragione lui 17-10 scala guarda è andata in mezzo è andata in mezzo è andata in mezzo è andata in mezzo il tiro dei 7 si la Brogge ha fatto la finta di scaricare leggera disattenzione del Salerno lei si è infilata lì rigore entra dalla panchina Lisa Ponti per tentare la trasformazione dei 7 metri tanto nel frattempo vediamo che c'è anche in campo sarà di giugno tra i pali del Salerno subito gol del Cassano prova a dare anche minutaggio al portiere di casa cresciuto nel bivario del Salerno sarà di giugno vedete adesso soprattutto il Salerno che ha la forza quando cambia velocità sulle diagonali dopo 10 passaggi adesso è tutto è tutto diverso adesso ovviamente c'è anche l'uomo in meno quindi attenzione perché il Salerno sta giocando anche a porta a porta se l'è persa è chiaro se ovviamente l'ultima che difende cerca di intercettare se la perde arrivederci valgo la Baicova che quindi ha segnato un'inferiorità numerica al Salerno non so se mi spiego sì però erano senza portiere allora è una parità numerica ha segnato la Slovacca Vladimir Baicova che fallo su Montoli palla recuperata cara Montoli mani più avanti e sedere più indietro per tenere lontano il difensore scarica sì un po' d'aria Panion primo palo primo palo Giulia Gozzi mi sembra che sia il quarto il quinto gol di Giulia Giulia quando è stata chiamata vedo cinque golle non mi ricordo forse uno il primo non so se l'ha parato non sono sicuro però un tiro sul primo palo che aveva l'angolo chiuso che aveva l'angolo chiuso parato da Pinto Periere me lo ricordo sarà un caso ma siamo due a uno cinque su sei dall'ala per Giulia Gozzi ovviamente il Salerno prenderà le misure perché adesso fa uscire il pivot e poi attacca Manone e va per l'ova sul pivot grande difesa della mitica Cobianchi cambiato anche il pivot perché non c'è più Lucila Stel ma c'è Siriel Matos adesso dobbiamo vedete nel ruolo di pivot eh devono vediamo passivo va sulla diagonale eh questa volta non lo danno lo sfondo giocano passivo 18 metri di là pesa dai ragazzi non esultiamo ma andiamo sulla superiorità su scarichiamo eh sì si hanno capito il Cassano che se passa in mezzo a due giocatrici basta non schiantarci si contro ma passare fra eh e a questo punto allora soprattutto stiamo mettendo in difesa in difficoltà il loro attacco quindi qualche palla recuperata e qualche seconda fase nostra quindi adesso non era politissimo il Salerno che sta difendendo ovviamente vediamo eh sì voglio dire prova a invertire il trend del match esatto il Salerno fa molta più fatica a segnare ovviamente perde qualche pallone deve tornare in diciamo in debito di ossigeno il Cassano se ci va dietro alle giocatrici che torno trova più opportunità 18-13 esatto comunque ridotto leggermente il gap da meno 7 a meno 5 ci provano le ragazze in amaranto pivot è molto largo doppio pivot adesso tutto più difficile ma no ma no ancora dai ragazze sì su dalla dalla sì una mano solo paniona tutto bello attenzione che vanno state pronte in difesa va sulla diagonale scarica l'ala ci deve essere qualcuno là però ci deve essere qualcuno buona la costruzione di questa azione per pianese se sei in difesa siete concentrati in 4 metri è logico che l'ala è libera light up cobianchi non c'è spazio si ferma ripartiamo 19-14 si era capito 3 passaggi prima che l'ala aveva la superiorità numerica e l'ultima a destra del cassano doveva allargare perché non c'era neanche il rischio al centro non c'era domesticata alcobianchi prova light up da fuori non si era anzi no era Boggi che ha incrociato con light up è persa la palla e ripartiamo riparte il Salerno potrebbe essere quasi una condizione di un rilancio sì certo di palla persa poteva essere vista come 19 Salerno 15 cassano ricordiamo che era finito col più 7 da parte del Salerno primo tempo questo vuol dire un recupero di 3 gol adesso vediamo poi se c'è palla cambio di direzione doppio pivot tutto più difficile libero di labbra tienila di lì se no c'è l'ala libera ancora costringiamo l'ala andiamo ragazzi in ferritorità non sta tornando il Salerno ma dai ha provato a spingere la seconda fase ma il passaggio un po' giocatrice bassa giocatrice bassa con due alte che tornano non ha speranza c'era già la superiorità perché la giocatrice del Salerno era dietro le giocatrici del Cassano che tornavano bastava passare la palla ovviamente veloci tutto vai 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 facile a dirsi da qua doppio pivot ovviamente per contrastare il 5-1 bisogna fare così perché vedete l'ala è sola e ci mette ancora Bertolino però Bertolino stiamo difendendo meglio ma Nila sta parlando ancora meglio rispetto al primo tempo e beh ma devi anche capire che quando tiri dall'ala un po' sotto pressione e dai un po' più da qualche chance in più il portiere non lasciando tiri semplici dai terzini dalla zona centrale ma costringendo spesso il tira dall'ala il portiere ha qualche chance in più e Nila sta rispondendo presente come al solito sì c'è tante belle croci Nila per adesso ne hanno segnate 6 quindi capite l'importanza è equivalente a un gol non preso Michela scarica l'ala c'è un po' di spazio sì ancora 6 6 sì attenzione alla ripartenza veloce dal centro prova dalla costa fallo e ho capito ma fallo da 2 minuti o meno ritenuto tale da a Michela ragazzi però la regola è questa se io contrasto il terzino che sta entrando non è che posso contrastarlo arretrando e ovviamente portandolo verso il sello deve contrastare in modo tale che lui si fermi lì dove c'è l'impatto se arretro sono finito è chiaro che il gioco è suo e si brisca il rigore e i 2 minuti 19 a 16 Luca abbiamo fatto meno 3 rigore per squizzato cioè stellato scusate stellato devo dire che eravamo arrivati a meno 3 me lo segno Luca nel secondo tempo adesso inferiorità numerica è tutto più difficile non rinuncia sì abbiamo poi il play Luca schema eh sì senza portiere ragazzi rischio è un po' prima però un po' prima altrimenti l'ala non ha la superiorità lo scopo della dello scala palla veloce è quello di creare superiorità da una parte se tu palleggi siamo belli che finiti 16 a 20 scarico ancora è un muro prova a tirare doppio appoggio ma riparte in contropiede con Chianese e sarà forse rischiava quasi due minuti diciamo che l'interferenza ragazzi ho capito ma c'è la giocatrice del Salerno che che non è ancora tornata ragazzi scusate non è ancora tornata la giocatrice del Salerno scusate l'ala libera pivot ma dai rigore due minuti svei minuti numero 24 del Salerno 21 a 16 due minuti a lauretti matos e tiro dei 7 metri conquistato da Gloria Montoli e poverà la trasformazione Lisa Ponti avevamo la giocatrice del Salerno sui 6 metri Cassano che andava alla libera sinistra abbiamo siamo ripartiti verso la scalata verso il centro comunque è andata bene vediamo se poi abbiamo ancora si sarà conclusa 38 secondi di inferiorità numerica noi ovviamente due minuti pieni Panion realizza Lisa Ponti dai 7 metri avevamo Luca un meno 3 anche per Lisa 5 retti anche se sta tirando 3 rigori dopo gli errori precedenti però anche per lei 3 dai 7 metri e due situazioni in doppio appoggio nel primo tempo e adesso lasciamo troppo angolo alla alla destra eh sì ma si è in inferiorità hanno fatto una bella scalata qualcosa devi decidere lì ci sta che tu punti al terzino siamo anche un nome in meno per parte quindi gli spazi erano anche più ampi ora recuperiamo noi il 2 minuti quindi abbiamo un minuto e 14 di superiorità numerica va sfruttato al meglio siamo sempre a 5 reti dai ragazzi dobbiamo è un passaggio un po' non se l'aspettava eh sì ma è anche basso e interno può andar bene che non te l'aspetti ma se ce l'hai sui denti è facile che lo prendi e c'era quasi dentro l'area sì era giusto che la giocatrice ha passato per anticipare la difesa non ha avuto modo giusta tatticamente perché perfetta però ovviamente ha dovuto anticipare per non fare vedere il caricamento a quel punto è stato impreciso è mancato di precisione certo ce l'ha un po' libera per fortuna che risale eh peccato eh sì ci ha provato ma lo scopo del 5-1 è quello è fare gli anticipi poi ti può andar bene e ti può andar male abbiamo recuperato tre palloni nei primi cinque minuti eh cambia di direzione e si fa parare poi però ci mette una pezza Sala di Giugno fallo fallo della giocatrice del Salerno grande grande Montoli che difende lo spazio dove è recupera la palla dalla spazzatura bravo Montoli tiene i piedoni al posto giusto scarico sì peccato che è ad uscire guarda è andata ad uscire e poi ha fintato di scalare scaricare al centro e capito che era sul fianco della giocatrice del Salerno che difendeva e lì è andata lì è andata perché sapeva quel punto che era rigore 23-18 peccato perché eravamo sotto di tre bravi comunque la giocatrice Cassano che sanno trovare delle soluzioni quantomeno stanno tenendo viva la partita perché dopo il meno sette dell'intervallo si temeva una debacca totale però insomma invece la partita ovviamente ancora fortemente in controllo del Salerno però il Cassano ci sta provando palla recuperata non c'è fallo poi non c'è possibilità di ripartire quindi ci sarà attacco organizzato però vedete che su 5-1 si recuperano i palloni oltre che recuperare i gol siamo andati a meno tre e il Cassano sta in gioco meno tre voleva dire che aveva un parziale praticamente di di quattro gol recuperati no tre gol recuperati anzi bianchi però oggi prova la penetrazione è fermata ha capito che se va in mezzo anche dopo il fallo riesce a prendere un magari rigore ripartiamo siamo abbastanza lenti si mi esce la Montoli pivot schema di partenza scarico ora diagonale questo punto si va bene ci va ancora scarica si peccato che non ha preso la porta riparte il Salerno bello deciso grande grande andiamo ragazze andiamo ragazze su 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 c'era un po' di pivot ma non ho capito c'era un po' di pivot e di alla libera 4-0 si potrebbe anche sbagliare troppa sufficienza per il 4-0 è classico il 4-0 è classico il relax che però devo dire ha tirato addosso al portiere il portiere è stato bravo non si è smaterializzato a non muoversi in anticipo ha aspettato un po' di sufficienza non sarà contento vediamo abbastanza scuro in volto Laura ma in panchina insomma 4-0 il Cassano le aveva sbagliate tutte aveva doppia superiorità numerica destra non l'aveva alimentata e poi dopo Laita Gozzi si ci va ci va palo peccato sfortunata non è che era proprio libera si ragazze recupera ancora Laita dai ragazzi su l'area libera ecco Panio eh ma che gol bisogna eh sì eh ne vuole parlare anche l'allenatore del Salerno perché le sue ragazze stanno non una buona pagina per il Salerno quindi decide di parlarne su Laura quante palle interfestate al Salerno tutte nel secondo tempo forse 5-6 forse mai visto non ero così e qualcuno dice per il 5-1 e va bene ragazzi comunque è bello vedere la palla a mano così Luca almeno mi diverto un attimino vedo che giocatrici ovviamente la squadra del Salerno sono giocatrici più tecniche fisicamente preponderanti eccetera eccetera vedere qualche ragazzina di quelli di quell'altezza lì eccetera intercettare segnare anche qualche gol tra cui una di queste ne ha segnate 6 al Salerno non è poco diciamo la differenza di Rooster c'è un netto mismatch fisico una differenza anche di ambizioni delle due società quindi è giusto che il Salerno provi a chiuderla il prima possibile dopo il primo tempo i giochi sembrano già fatti ma Onelli cambiando difesa ha detto no non siamo proprio d'accordo vogliamo provare a inventarci qualcosa anche perché meno 7 presso per perso le provi tutte però per ora gli sta dando ragione questa tattica abbiamo recuperato siamo arrivati a meno 3 siamo ancora a meno 5 partiamo da un meno 7 è ancora lunga la salita è irta però ci proviamo fino in fondo siamo a metà ripresa ora ovviamente anche per Avam ci saranno le contromosse alla difesa 5-1 giocatrici di quel livello di quella classe non può certo mettere in difficoltà semplicemente avanzando un difensore se no sarebbe tutto molto semplice e troppo facile infatti il pivot esce molto a quel punto la difesa non sa chi prendere entrano in 3 alla volta ed è tutto più difficile però viene soggettato anche a degli intercetti due pivot guarda due pivot palla costa palla all'ala deve risalire non c'è spazio per stellato vedete come scaricano la palla l'ho rettimato adesso in regia eh vedi che è più difficile adesso presa tiro parato ma ragazzi no è incredibile però beh io non so se è passata dall'aria non te lo so dire però le giocatrici del Cassano mi sembrava un po' fuori cioè non mi è sembrata che no allora sicuramente la palla era ancora in aria forse era in aria perché la giocatrice era fuori con i piedi no stello è sicuro l'autrice del tiro forse è rimasta dentro ed era vicino alla palla non lo so sicuramente stello era fuori e la palla era fuori la giocatrice del Cassano sono rimaste lì come dire tanto non la prende lei non è non è proprio vero è brava brava è la sporca stessa stello intercetta grande eh sì adesso ci sarà eh non c'è più nessuno di là eh si prende il palo no no parata di Nila parata tiro sulla figura nello stomaco era lo stomaco di Nila poverina allora avrei sentito uh perché è una botta di quel tipo lì allora benissimo vedete che il Cassano ha la possibilità anche del meno 4 vuol dire stare in partita giocarsela dai ragazzi dai così ci divertiamo tutti potete vedere una palla a mano un po' più equilibrata scarica su Michela questo ho visto pochi gol oggi Michela ha perso la palla attenzione attenzione sulla sinistra stellato e va a segnare avete visto come tiene la mano aperta già prima di fare l'ultimo passo se tu la tocchi quello è rigore e quindi molto bravo molto intelligente ancora con bianchi per Montoli cerca di passare sotto mano a darla alla centrale che stava entrando peccato ci siamo andati ancora sotto di 6 Luca dai è una fase brutta del match perché entrambe le squadre probabilmente stanno accusando un po' di fattore perché prima il Salerno ma anche noi veniamo da 3-4 azioni un po' confuse sì certo non è stato sufficiente il team out chiamato prima dalla panchina del Salerno per rimettere a posto le idee doppio pivot perché sono scarica abbiamo perso tutto l'abbri stavo dicendo Michelin adesso questo scarica di lei vediamo cosa succede qua ma dai ragazze in due siete lì all'unica possibilità di girarsi fare quella semicerchio lì basta chiudersi cioè ho capito portiere fa un numerello di questo tipo qua e noi stiamo lì a guardare siete due che difendono basta spalla contro spalla non c'è spazio facile a dirsi eh Luca 18-25 bella l'azione del Salerno siamo tornati all'inizio del match quando facciamo difesa difficoltà in attacco e sui palloni persi il Salerno la meglio in seconda fase certo ma due che difendono contro una meno una esce a intercettare l'altra sullo scarico sul cambio di reazione eh no non c'era perché mi dispiace ma era in mezzo non era poteva essere chiamato lo sfondo ma lei era fra voi due eh però bisogna anche tornare in difesa eh bisogna anche tornare in difesa ragazzi è rientrata Russo Mando all'ala destra e già due gol consecutivi per Giulia non viene convalidato non lo so no 26 26 beh sì che hanno battuto dal centro Luca non lo so però io ho visto la battuta però forse non ho sentito il fischio 26 a 19 comunque siamo allineati con il tabellone attenzione adesso gli arbitri probabilmente loro ne hanno metto quindi il Davidino ha alzato il ditino Luca ha detto ho un dubbio sta facendo il controllo quindi così 25 un plauso al Davidino si era accorto della chiamata di aria da parte dell'arbit quindi l'ultima rete di Russo Mando bravo Davidino io non mi ero accorto non mi ero accorto Luca sì infatti è entrata la Barbosu Luca dietro la Barbosu Roggi da fuori tiro viene prima deviato la difesa poi gestito da sale di giugno un pivot il pivot il pivot il pivot ragazze ancora una rete per Lucila Stettler alla settima marcatura personale ben servita dalle compagnie in posizione su pivot e soprattutto vava lei da pivot a rubare anche due o tre palloni sulle respinte di Bertolino poi devo dire che anche possedo portiere Cassano dice ai miei compagni ragazze adesso ve lo dico piano poi se non tornate sul pivot 26-19 tutto da rifare sempre sette le reti da rimontare però mancano undici minuti al termine della partita tempo è poco di nuovo in campo anche Sofia Ferrazzi Barboso cos'è vediamo due minuti viene chiamato un tocco di piede volontario infatti diciamo che è rimasta ferma sui due piedi però con la gamba sinistra un po' verso la palla si è mossa quindi può si può pensare a una volontarietà Barboso ha cercato il passaggio schiacciato Stettler ha intercettato col piede in maniera volontaria a giudizio degli abbi quindi due minuti c'era spazio però oggi cioè sì no è la Ferrazzi sì sì è rientrata Ferrazzi oh e beh è ancora spazio ma ancora di giugno dopo un inizio difficile ha stampato anche sale di giugno tre quattro parate ora lascia spazio alla compagna perché siamo in situazione di infernità numerica quindi extra player per ricordiamo che la Iaomi Salerno abbiamo la porta vuota ragazzi se prendiamo la palla sappiamo cosa fare ve lo dico eh tanto attenzione pivot ragazzi che è troppo libero squizzato nella posizione di pivot senza di Stettler che è fuori due minuti brava lei viene servita ma intercetta Montoli dai 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 recupero Ferrazzi vediamo vediamo se c'è spazio per la seconda fase sì no questo era Broggi dai Broggi torna ragazzo su dai sei fuori 5-1 dai no furtere action come dicono in Formula 1 si può continuare non è successo nulla era un incidente di gara incidente di gara non è un unsafe release e quindi ritorniamo ragazzi su 26-19 dai 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 fuori dalla costa brava brava vedete cosa vuol dire difendere più sul pallone che sulla che sull'avversario se tu metti la manonna sul pallone su dai Broggi è un po' è un po' difficile eh 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 però era in movimento era in movimento quindi lei stava traslando a destra e lo sfondamento non c'era diciamo che nel primo tempo erano tutti sfondamenti nel secondo tempo non hanno più fischiato uno quindi hanno cambiato loro eh vabbè c'è poco spazio eppure riesce a metterlo però trova l'angolo giusto Giulia Milan 20-27 sempre 7 reti da recuperare ma 21-38 Salerno in attacco 27 punteggio Salerno 20 Cassano questo ci dice che se il Cassano avesse giocato così primo tempo saremmo pari troppo facile eh esce il pivot taglia l'ala doppio pivot è chiaro che con tiro sopra la traversa forse ha spizzicato la traversa stessa ma anche in questo caso non c'è fallo si può ripartire Ferrazzi Ponti in doppio appoggio marchio di fabbrica di Elisa Ponti avete visto la R sul pallone era il trademark della Ponti 27-21 27 Salerno in attacco 21 Cassano difesa 22 del secondo tempo meno di 8 alla fine ricordiamo il punteggio del primo tempo era 17-10 per il Salerno doppio pivot scarico e vedete come ha girato attorno molto bene sfruttando devo dire il mismatch fisico Luca squizzato e beh sì aveva qualche 20 kg in più e quindi la difensore del Cassano è riuscito a tenerlo sul primo impatto lei ha fatto piede perno rotazione attorno alla propria schiena a quel punto lì il difensore del Cassano era fuori 28-21 bella ovviamente bellissimo movimento della giocatrice del Salerno Montoli Ferrazzi scarico cambio di dire questo è uno schema è ancora di giugno però non era proprio libera sul tiro ci aveva un po' qualcosa sulla schiena però l'arbitro era a due metri e quindi ha visto meglio di noi doppio pivot eh ciao e la perdiamo con una palla persa sì Barboso a destra si è complicata la vita si attacco un po' meglio perché abbiamo fatto già più reti rispetto al mio tempo era a dieci certo qualcosina meglio ma non sufficiente c'è stato quel buon avvio di ripresa arrivati addirittura meno tre infatti dicevo passi va che mi va va che mi va va che mi va non è così facile segnare è dovuto cercare il tiro all'angolino e ci stava arrivando anche questa volta il portiere Campano fare il 5-1 c'è anche questo vantaggio Luca che c'è l'uno che è avanti per la seconda fase o il contropiede 28 Salerno 22 Cassano doppio pivot ovviamente con il 5-1 fuori e Manolovic gestisce palla poi deve risalire non c'è spazio Pai Ciova ancora Manolovic può saltare un passaggio ma ancora una volta Nila no quello ha preso la palla in area questa è una volta in area quindi ancora è passata davanti al difensore però recuperando la palla in area che non è possibile il lancio Paniglion al 7 al 7 28 a 23 ma va che bello vedete che fare il 5-1 fare il 5-1 qualcosa guadagni sempre a buttare il cuore oltre l'ostacolo ci provano le ragazze così Cassano sta vincendo il secondo tempo di due gol due buone difese consecutive una prima palla attenzione ma dove vai Allala e ancora ancora una volta Nila dai ragazzi dai ragazzi che sono eh sì dai vedete siamo in 5-1 facciamo massa alle zone centrali qualche cosa Allala dobbiamo concedere ma per fortuna ci mette una pezza Nila regalandoci la palla del possibile meno 4 devo dire che l'Ala è andata a difendere il terzino che era 40 metri fuori quindi non avrebbe mai più potuto il bel passaggio centrale quindi io se l'ultimo di sinistra il penultimo è vicino al 9 metri ci posso fare ma se è a 6 metri dei 9 metri non posso uscire va che bello va che bello buona questa combinazione meno 4 Lisa Ponti punteggio meno 4 Cassano ancora l'ultimo assalto 28-24 ora o mai più ragazzi sta vincendo il secondo tempo il Cassano sale l'urlo difesa difesa dai tifosi qua palazzetto tacca è andato un po' in aria oh là tiro alto di Manolovic dai ragazze su che sta tornando su che sta tornando intanto che si posiziona pivote libero vai che va si scarico per Giulia Milan all'ala e vai siamo meno 3 attenzione sul sotto del Cassano era di piombata meno 7 e si ne vuole parlare su e costringe più 4 del Cassano nel secondo tempo a chiamare time out 5-1 c'è qualcuno che fa il segno 5-1 diciamo che qualcuno aveva detto anche 3-3 però non non buttiamoci su queste su queste voli pindarici mi è sempre piaciuto il 3-3 però va bene ma anche il 3-2-1 mi piaceva ti devo dire la verità e quindi niente perfetto il Cassano con queste giovani pulzelle che stanno mettendo in difficoltà il Salerno ed è una goduria vedere la pallamano bene vediamo cosa si inventerà Laura Abban per cercare di risollevare le sorti delle sue ragazze ha fatto anche un po' di turnover vediamo se per esempio beh però insomma diciamo che anche Sare di Giugno dopo i primi minuti in cui ha subito un po' quel primo cenno di rimonto del Cassano poi ha piazzato anche delle belle parate quindi sicuramente assolutamente non è il portiere il problema del Salerno in questa fase infatti viene confermata numero 12 però Nila ha tenuto abbiamo 4 primo tempo 3 secondo che sono anche di più Nila ha avuto il pregio di tenerci a galla nel momento in cui la difesa era allo smando più totale e lei ci ha tenuto a galla ed ora ora che la difesa la sta aiutando un po' ha accentuato ancora la qualità delle parate aumenta la responsabilità delle giocatrici che devono segnare perché sono sotto non vanno come quel contropiede di 4 contro 0 che Nila ha parato doppio pivot il Cassano sa che se tiene questa palla ma no lo dice trova il gol sul primo palo si era già un po' lungata Nila e questa è la differenza avere una giocatrice con queste soluzioni tecniche ovviamente ti dà dei vantaggi Montoli perde palla perde palla attenzione e vediamo un po' Orso Mando eh sì molto bravo Orso Mando ovviamente si allarga a sinistra eh ciao fallo passaggio alto però ha subito il fallo nel momento in cui proprio lo stava effettuando ne parla anche Cassano di Onelli chiaramente tempo è poco due minuti e spiccioli cinque letti da recuperare non dico che è impossibile ma è molto complicato però probabilmente al time out di prima di Ava ma vuole rispondere con altre soluzioni tattiche ricordiamo era sotto di tre il Cassano possesso palla Salerno se avesse preso quella palla lì no diciamo che la partita diventava interessante però dobbiamo dare altro il Cassano che in due momenti della partita è andato a meno tre che vuol dire col Salerno vincere di quattro secondo tempo non è male sì nel complesso non ha una prestazione perfetta tentiamo già un'analisi visto che comunque cinque gole ad un'unità della fine però diciamo a spazi un buon Cassano soprattutto quando è riuscito a gestire la difesa quindi a contenere gli attacchi avversario e poi la ripartenza in seconda fase sappiamo essere una delle nostre armi oggi l'abbiamo fatta bene chiaramente per fare il contropiede devi prima recuperare il pallone e 5-1 te l'ha permesso di più quindi la difesa 5-1 direi buona perché i palloni sono stati recuperati la 6-0 oltre a essere una scelta tattica probabilmente non adatta al gioco del Salerno è stata anche eseguita male quindi questa corresponsabilità da parte della panchina da parte dei giocatrici in campo sicuramente ha permesso quel break che poi si è rivelato fatale del Salerno mani in faccia attenzione per me potrebbe essere due minuti ma non hanno individuato chi ha fatto il fallo perché mi sembrava un po' più verso il centro verso il centro della difesa infatti non era non era la giocatrice del Salerno è andato a dare la mano alla giocatrice del Cassano io prendevo allora sei stata tu fa niente comunque ho già inferiorità numerica per il Salerno 30 Salerno 25 Cassano possesso palla 2 alla fine scaricone sì meglio andava dato prima la Ferrazzi che poteva liberare l'ala su ragazze ma no passaggio per me è intercettato dai 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 doppio pivo dai 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 Ferrazzi cerca ancora l'incrocio anche questo è un marchio di fabbrica però Luca beh palla scaricata così devo dire che questo è anche perdita di tempo non male eh peccato questo attalenanza di rendimento guarda il marcamento oh ruba palla dai dai vai vai ma cosa ma no ma dai ma per cortesia no ci hanno sempre insegnato a tirare a bocce quando facciamo così probabilmente si accorta all'ultimo momento che non c'era portiere quindi ha fatto un tiro teoria normale e poi abbiamo perso il meno 2 Luca la palla si stampa sul palo sfondamento abbiamo perso il meno 2 Luca ancora yes questa volta c'è il tiro yes farza tutto meno uno Bertolino meno uno va in porta 30-27 sì sì ho sbagliato tutto sì meno 3 scusate mi sono troppo gasato mi sono troppo gasato e golla ora chiude in maniera definitiva ancora portiere paro dai ragazzi questi due l'ha deviata no no perché è la laterale quindi non l'ha deviata ma quindi l'altezza era giusta e la direzione era sbagliata eh guarda abbiamo sbagliato due guarda eravamo sotto meno 2 adesso dalla costa scarica eh c'è poco spazio finita 31-27 il Salerno la porta a casa però vediamo Avam che non è contenta abbastanza scurivo quindi ha visto troppi eroi da parte delle sue giocatrici Cassano seppur ha avuto anche il Cassano un andamento altalenante però ci ha creduto ci ha provato fino alla fine sì 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 cose buone altre non meno quindi c'è ovviamente ancora tanto lavoro da fare ma Onelli potrà partire da una base discreta 31-27 bisogna migliorare in diverse cose la 6-0 sicuramente non ci è piaciuta fatta così no certo e quindi bisognerà lavorare tanto su questo rischio perché poi abbiamo visto quando i palloni vengono recuperati quando Nila viene messo in condizione di effettuare parate poi la seconda fase che invece è una delle nostre cose migliori è stata fatta bene è più efficace con ottime percentuali tanti palloni pressi in attacco e su questo bisogna lavorare e soprattutto occasioni a porta vuota sprecate così questa è l'inesperienza l'esperienza ti dice che se non c'è portiere tira bocce bene noi vi ricordiamo che i prossimi appuntamenti per le nostre ragazze sabato prossimo saranno in trasferta a Ferrara per Salerno appuntamento casalingo con Erice sul punteggio di Cassano 27 Salerno 31 Luca Basile Cassio Peti vi salutano alla prossima partita qua da Paratacca ciao grazie ciao